Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto un gioco nuovo molto interessante, si chiama PixArk, un mistro tra Minecraft e Arc Evolution. Sicuramente conoscete tutti e due i giochi, molto survival entrambi, uno ha anche i dinosauri da tamare e anche altre tecnologie da aumentare, l'altro sappiamo che è molto farmer, molto mining. Tutto cubettoso ragazzi, anche questo è diventato così, in pratica è una versione alleggerita per far giocare anche le persone che non riescono a giocare Arc Evolution perché è settato molto pesante e neanche tanto bene. Questo invece se la cava abbastanza bene, anche lui è un po' pesantino in alcuni casi, ma va molto meglio. Quindi 300 like, condividete i video, iscrivetevi al canale, lasciate il hashtag PixArk qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e noi andiamo avanti ragazzi. Oggi non entrerò nei server multiplayer che sono già un'infinità, se io mi metto a caricare i server ce ne stanno una vagonata ragazzi, di tutte le versioni 1.4, 1.3, 1.5. L'ultima versione è l'1.5.1 ragazzi, per oggi non giochiamo in nessun server, specialmente in quelli ufficiali. Oggi andiamo a provarlo da solo per vedere un po' com'è il gioco. Già ci ho giocato con i Singar, molto divertente e molto difficile. Ci vediamo in game. Ok, stiamo scendendo e abbiamo i nostri bellissimi palloncini, guardate come siamo belli. Bababia, bababia. Allora, come vi dico, è tra il leggero e il pesante questo gioco, è una via di mezzo. Allora, cosa possiamo fare? Con Shift già possiamo correre, con C ci possiamo abbassare e andare pian pianino. Con, se non erro, la F, non mi ricordo qual era il tasto, dov'era? Ok, tanto adesso ce li dirà lui. Allora, intanto con lei possiamo raccogliere la roba. Prendere questi fruttini può servire sia a tamare i mob che le fibre per costruire determinate cose. E, se facciamo il level up, appunto, prendendo roba, uccidendo mob o tamandoli, abbiamo potenzialmente che possiamo mettere al nostro personaggio. In questo caso possiamo andare a prendere direttamente un bel potenzialmente. Ho danni. Opa secco. Così. Ok. Abbiamo i craft, per adesso questi di base. Con i punti engram possiamo sbloccare gli altri. In questo caso posso sbloccare, per esempio, il fuogherello che mi sblocca anche tutta la roba cucinata. Possiamo andare a sbloccare i vestiti che li facciamo con i glotti e le fibre. E quindi abbiamo utilizzato tutti gli engram che troveremo dopo. Ci sono anche delle quest che si troveranno in giro. E possiamo creare anche una nostra piccola tribù per ritrovare anche gli altri come stanno. E ci scambieremo anche l'esperienza e non ci prenderemo a ammazzare se entriamo in server PvP. Quindi sono anche server PvP dove la gente ti ammazza molto volentieri. Ok. Direi di andare a prendere la prima robina che ci può servire. Allora. Giustamente come su Minecraft è la prima cosa che dobbiamo andare a prendere assolutamente. Se chiama legna. Perché se no i picconi ce li famo. Specialmente di legna. Ok. Infatti già ho fatto il level up a tutto spiano. Di questo gioco non c'è ancora la lingua italiana. C'è soltanto l'inglese e un paio di lingue giapponesi da quello che ho visto. Ok. Allora. Ah ok. Ci abbassiamo. Intanto ci continuo a fare un piccolo tutorial nel durante. Quelli sono i mob che possiamo trovare in giro. Non ci sono solo questi toponi ma ci sono anche i dinosauri. Tipo anche questo che è volante. Che non possiamo tolare perché ci vuole un determinato livello. Ok. Allora. Abbiamo preso un po' di alberi. Vediamo un po'. Craft. Andiamo a prenderci una bella scetta. Perfetto. Il picconazzo. E direi anche il nostro primo bastone da lotta. Ok. Possiamo fare misa anche un paio di vestiti perché vedo che abbiamo forse gli elementi per farlo. Quindi direi di andarci a vestire con i primi leggerini. Con i cloth. Ok. Allora. Clottini. Li abbiamo in inventario. Li andiamo a mettere qui. Infatti il vestito cambia come potete vedere. E andiamo a mettere anche la maglietta. E avremmo messo tutto quello che abbiamo sbloccato fino ad ora. Ok. Allora direi di andare a vedere che succede se vado con la scetta qua. Ah ok. X. Ci abbassiamo e andiamo bassi bassi. Perché giustamente molti nemici e molti nemici sono pericolosi. Tipo con i singali ieri sera mentre stavamo giocando in due c'era un raptor che non ci ha fatto fare neanche casa. Ci ha ammazzato non si sa quante volte. Ok. Intanto picconiamo un pochino di alberi. Olè. Facciamo una bella pulizia. Si può giocare sia da soli che in multiplayer. In server esplorazione. In server creative. O in server tranquillamente. PvP. Ok. Abbiamo preso un altro po' di legna. Allora ci interessa anche avere un po' di flint sinceramente. Eccola qua. Ce l'andiamo a prendere di cattiveria. Minazziamo. Minazziamo cattivi. Ok. Questa flint ci servirà per fare altri elementi. In questo caso possiamo andarci a fare la torcia che ci servirà durante la notte perché c'è il ciclo giorno e notte. Anche per fare giustamente questo che ci vuole molta più legna, molto più touch che si prende dall'erba e anche della flint per accendere il fuocherello e per cuocerci la cicciua perché se non lo riusciamo a mangiare. Engram. Allora andiamo a sbloccare anche gli alti vestiti visto che li abbiamo fatti salendo di livello e vediamo poi se riusciamo anche a craftarceli. Possiamo tra un po' anche imparare la chest. Il letto che è molto importante nei server pvp perché fa come su un minecraft che ti dà lo spawn. Quindi puoi avere lo spawn direttamente. Quindi molto comodo. Ok. Andiamo a vedere qualcos'altro. Allora abbiamo fatto upgrade. Quindi potenziamenti direi di potenziare un po' la health e di potenziare anche un po' il cibo così magari resistiamo un po' di più. Allora se mangiate le bacche che sono quelle che ho droppato che possono servire per tamare bellissimo e con dinosauro figo vi cala la vita ragazzi e vi cala da bere in modo assurdo. Da bere come si fa a bere? Andate nell'acqua e premete niente di più semplice e vi recuperate l'acqua. Perfetto perfetto perfetto. Allora mi piccoro un po' di flint e continuiamo la nostra adventure. Allora io vorrei provare a tamare un qualche tipo di mob. Allora una cosa che non vi ho fatto vedere che è appunto senza gli oggetti in mano premendo con la Q. Se premiamo il tasto destro possiamo scannerizzare quello che abbiamo intorno. Quindi possiamo vedere anche le capacità e le statistiche di ogni singolo mob che abbiamo qui. Tipo questo grosso vogliamo vedere che cos'è. Vediamo un po' se ce lo fa vedere. Eccolo qua. Sauropod di livello 27. Tamabile. Ok giustamente non lo posso ancora tamare perché ci vuole un livello molto più alto per essere tamato. Vedete? Ci vuole il livello 70 vi dice per essere tamato. Posso tamare per esempio un dodo? O posso tamare anche questo dinosaurino? Anche se penso che ci voglia almeno un livello 5 quindi almeno un altro livello. Posso anche ucciderli questi mob perché per esempio il coniglietto per farvi capire ci può dare del cibo. E ci può dare anche della stoffa specifica. Ok vai. Dacci un po' di ciccia. Quando trovate questo oggettino menatelo finché non si rovina perché vi dà la carne che è molto importante. Devo fare un livello up. Contro questi ancora non c'è meno perché sono molto più resistenti quindi non voglio farvi vedere questo. Possiamo raccogliere anche la cacca degli animali che ci può dare la possibilità. Non so ancora coltivando di appunto fidare il cibo quindi come su minecraft. Diciamo che è totalmente un mix. Un mix completo. La ladder è molto importante anche perché ci permette di fare il lettino. Ok ho fatto il livello up? Sì sono il livello 5 fammi minare questo prima che si eleva. Ok direi di andare a provare a tamare lui. Allora con AE possiamo fidare e dargli il cibo. Giustamente dobbiamo aspettare che ha di nuovo fame. Quindi sarebbe il caso di rimanere intorno a lui fino a che non siamo riusciti a tamarlo. Se lo tamate avete la possibilità di mettere anche gli equipaggiamenti che per adesso ancora sono da sbloccare. Però potete decidere di farlo diventare aggressivo quindi che quando voi attaccate o vi attaccano lui vi dà una zampa. E quindi non sarebbe male. I primi livelli e i primi mostri sono molto facili da tamare sinceramente. Perché basta stargli a fianco e dargli da mangiare ogni volta che hanno fame. Ok si però non andare sotto all'altro perché se no per sbaglio do da mangiare lui e poi ciao ciao al cibo. Ok giustamente questi sono animali non carnivori quindi per tamarli basta dargli le bacche che abbiamo trovato a giro. Ok è quasi tamato quindi con il prossimo a botta di cibo dovremmo tamarlo. Intanto ogni tanto ci stanno quelli che fanno i cuoricini perché si possono anche accoppiare perché sono maschi e femmina. E quindi con il loro DNA da quello che so come su Ark si possono fare dei potenziamenti migliori. Ok dai. Grazie. Ok lo possiamo chiamare. Lo chiamo Ulisse. Mi sembra giusto il nostro primo mob brutto lo chiamiamo Ulisse. Giustamente. Dai è così. Aia. Perché? Perché il sauropod ci ha schiacciati? Non è giusto ecco però così vi ho potuto far vedere anche il respawn. Il respawn è casuale se non avete il letto. Ok? Quindi random. Ok sono già respawnato. Come vedete laggiù c'è il rip. Aia. Ok stavo per andare nel bordo. Allora mo non so chi è che mi ha ucciso. Spero che non mi hai cercato tu maledetto. Lo so che non l'hai fatto apposta ma abbiamo perso il nostro bellissimo animaletto tamato. E questo non mi è piaciuto proprio. Ok allora facciamo così. Ripendiamoci la roba decomposta qua che non so che cos'è. Ah open inventory è un po'. No non mi dice niente. Mi scusi voglio la robinata qua. Ok mi dà la letter perché ha ucciso sicuramente qualcuno schiacciandolo. Ok. Stiamo prendendo un sacco di roba poi. Porca miseria. Allora direi di recuperarmi l'inventario interno. Opela. Abbiamo recuperato tutta l'orbina però mo c'è morto l'omino. Vabbè. Non era il nostro interesse primario. Allora cerchiamo di creare qualcos'altro per vedere pure che cosa succede. Intanto questa roba schiacciata guardate non scompare. Era veramente uno grosso quello che c'è morto qua davanti eh. Ah grazie molto gentile. Guardate quanta roba sto prendendo. Ok perfetto. Ho preso pure la terra per sbaglio perché giustamente. Va bene stiamo cominciando a prendere robina. Me lo potrei anche rifare perché se non erro ci sta anche il la sella per lui sbloccabile. Infatti vorrei vedere se la posso fare. Vediamo un po'. Allora voglio ritamarlo. Allora craft. Per adesso non la posso sbloccare. Facci vedere. Eccola qua. Ok l'abbiamo imparata. Quindi adesso possiamo craftarla. Se la craftiamo possiamo cavalcarlo addirittura. Allora vediamo un po'. Craft. Come si crafta già si può fare. Perfetto. Ok direi di damarmene un altro. A questo punto ritorniamo da lui. E andiamo a dirgli mi scusi. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Mamma mia che ti faccio. Niente eh non sei ferma eh. Sei fermi? Niente. Ok sono riuscito a dargli da mangiare dopo dieci minuti che gli giro intorno. Ok. Dai mangiucchia che diventi bello e grandicello. E poi questa è una fermina pachi livello dodici. Dai vogliamo la nostra prima cavalcatura. Che ci piace tantissimo. Su. Su. Niente eh. Ok. Ecco il cibo. Dai. Dai il cibo. Ho detto dai il cibo. Niente eh. Guarda come cammina sta maledetta che non ci fa dare la robina. È un po' scomodo dare da mangiare a questi animali eh. Perché si muovono di continuo e anche il target lo dovete fare in modo preciso. Perché se no non funziona. Ok. Ciao dodo. Una volta ho tamato un dodo ragazzi. Quando ho provato la prima volta. E era talmente inutile che lo dovevo prendere in braccio per portarmelo appresso. Perché era troppo lento. Invece muoio lui perché lo voglio cavalcare per la prima volta. Che non l'ho cavalcato neanche insieme ai singari ieri sera. Quindi sinceramente voglio provare. Ok. Grazie. Possiamo raccogliere pure l'erba che ci dà appunto le fibre. Che sono molto utili peraltro. I touch. Ok. Vediamo un po' se riusciamo a dargli l'ultimo cibo. Perfetto. Vediamo un po' se riusciamo a risuscitare Ulisse. Dai. Ha risuscitato Ulisse. Perfetto. Allora. Tenendo premuto con E possiamo entrare nel suo inventario. Ok. Allora equipaggia Saddle. Eccola qua. Allora. Mettiamoglielo addosso. Perfetto. E adesso penso che posso con E decidere di cavalcarlo. Mamma mia. E possiamo correre con Shift ragazzi. Guardate che figata. Siamo sopra il dinosaurino. I giustamenti sono dinosauri che possono anche volare. Tipo quello laggiù. Quello può volare e ci può portare a Gira Zonzo. Allora ragazzi. Questo era l'inizio un po' generico di questo gioco. Per farvi vedere un po' anche come funzionava. Voglio portarlo anche se riesco una volta insieme ai Singer. Magari in uno dei server ufficiali. Così potete entrare anche voi. E vorrei vedere anche se anche Ulisse gli piace come gioco. E magari lo portiamo insieme. Molto interessante. Tanto è un misto tra Minecraft molto appunto minoso. Possiamo costruirci la casa. Possiamo aumentare tecnologie. In futuro ci sarà anche magia. Ci saranno macchinari automatici. Portali che ci portano a tante altre parti. E anche dei boss ogni tanto che si trovano in giro. E dobbiamo stare attenti ai maledetti Raptor. Per fortuna non lo ho incontrati ancora. Strano ma vero. Ok ragazzi. Questo era il gioco. Cerchiamo di arrivare a 300 like per questo video. Condividete il video. Iscrivetevi al canale. Se siete nuovi. Lasciate hashtag. PixArk. Qui sotto nei commenti. Per ricevere un cuoricino. E datemi anche un vostro commento su questo gioco. E ci vediamo alla prossima puntata. Iscrivetevi al canale.